Anticipazioni delle puntate di Cherry Season dal 26 giugno al 30 giugno 2017. Beryl vorrebbe fare un contratto solo ad Ayats, che però non è d'accordo. Alla fine Beryl gli propone di prendere anche Oiku a condizione che Ayats faccia molti più episodi. Ayats accetta e chiede a Beryl di non dire nulla a Oiku. Beryl però lo dice a Oiku la quale decide di vendicarsi di Ayats. Nel frattempo Mete, che era comparso e aveva fatto arrestare Seima, le dice che ritirerà la denuncia se lei abortirà e lo aiuterà a conquistare Oiku. Seima va a parlare con Oiku alle altre per cercare di farsi perdonare e dice loro che ha abortito. Onem e Memme comunicano a Oiku e ad Ayats che sono diventati soci e che i disegni di Oiku sono piaciuti ad una casa di moda americana che manderà delle persone a Istanbul per vederli. La zia di Ayats convince Meral che non è bello che i due ragazzi vivano insieme non essendo sposati. Meral dice a Oiku che per il momento non può vivere con Ayats. Mete manda via Seima, offrendosi di darle un aiuto economico. Seima dovrà trovare un'altra casa dove andare a vivere. Beryl propone a Mete di allearsi per far separare Oiku e Ayats, ma Mete, per il momento, non vuole saperne. Mete va da Onem e Riesce a filmarla mentre ammette di aver dato l'ordine di incendiare la teglia di Meme. Beryl va a trovare Ayats, sicura di trovarlo solo. Ayats scoraggia in tutti i modi i suoi approcci, ma lei non si fa intimidire. Oiku è tornata da sua madre. Mete, con un pretesto, si fa trovare sotto casa di Meral, che si infuria. Una volta rimasti soli, Oiku lo rassicura sulle buone intenzioni di Mete e cerca di riconciliare i due ex amici. Meme e Onem danno un party per festeggiare la loro nuova società, e lì Ayats riceverà un colpo inaspettato. Mete dà un ultimatum ad Ayats. Entro 24 dovrà dargli una risposta. Ayats vorrebbe parlare con Onem, ma non ci riesce. Oiku nota che Ayats è molto strano. Mete continua a tessere la sua tela. Dice a Seima di frequentare di più le ragazze. C'è una partita di calcio di Cem e Oiku invita tutti i suoi amici. Anche Mete sarà presente. Prima della partita Ayats vede Mete davanti alla casa di Oiku e gli sferra un pugno. La squadra avversaria di Cem non si presenta, così Emre propone di fare una partita mista anche con le ragazze. La sfida diventa un'occasione di scontro fra Ayats e Mete. Ayats telefona a Onem sollecitandola di arrivare in ufficio perché le deve parlare. Mentre è al telefono Onem ha un incidente e finisce in ospedale. Mete continua a minacciare OAyats dicendogli che vuole una risposta entro 24 ore. Oiku è molto preoccupata perché vede che Ayats si è chiuso in se stesso ed è spesso triste, così chiede consiglio ai suoi amici. Anche Onem e Ime ma capiscono che c'è qualcosa che preoccupa Ayats. Mete vuole che se Ima torni a lavorare da Onem, così potrà stare più vicino a Oiku.